Nei giorni scorsi l'Aggiunta a Mascaluccia ha approvato l'atto di indirizzo con cui è stata stabilita la retta mensile da erogare alle famiglie con minori che frequentano asili nido privati. La misura rientra tra le direttive previste dal piano di zona, attuato dal distretto sociosanitario 19 che comprende tutti i centri dell'Interland catanese. Infatti con questa delibera il Comune di Mascaluccia si impegna a fornire un contributo di 399,50 euro, purché non si superi il 90% dell'intera retta e a patto che in ogni singolo istituto non vi siano più di 18 neonati le cui famiglie usufruiscono di questa misura prevista dal Comune di Mascaluccia. La retta infatti potrà essere ricalcolata anche in base al personale impiegato dalla scuola che dovrà essere accreditata al rispettivo albo e ai costi fissi da essa sostenuti.